All'interno del Consiglio Comunale di Taranto si è costituito un nuovo partito, il Partito dei Trasformisti. Vi hanno aderito i consiglieri Adriano Tribbia, Patrizia Vignolo, Filippo Iliano e Michele Patano. Queste persone neanche venti giorni fa circa avevano aderito ad Italia Viva, ora che fanno? Smontano, lasciano Italia Viva e ritornano nei gruppi originali di appartenenza, o meglio in uno dei gruppi originali di appartenenza, perché ne hanno girati parecchi di gruppi politici all'interno del Consiglio Comunale. Hanno voluto seguire Rinaldo Melucci nel suo folle percorso politico-amministrativo, un Melucci che aderisce, ripeto, neanche venti giorni fa ad Italia Viva, ottiene un incarico nazionale e ora che fa? Lascia tutto, abbandona Italia Viva e Renzi. E quindi praticamente i consiglieri lo seguono, si erano uniti appassionatamente a Massimiliano Stellato, ora non si sa quello che accade, o meglio si sa, si sa benissimo che Melucci si è reso conto che sposando Italia Viva e Stellato avrebbe perso il resto della maggioranza, sarebbe andato a casa e avendo una fottuta paura di andarsene a casa lui e i suoi consiglieri di maggioranza, torna a casa Lessi, abbiamo giocato, si ritorna indietro e quindi l'esperienza Renzi, l'esperienza Italia Viva si cancella con un colpo di spugno in venti giorni e si ritorna al passato, un po' come il marito che fa la scappatella, poi si rende conto, torna dalla moglie e torna dalla famiglia. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Noi stiamo parlando, signori cari, di consiglieri che sono stati eletti dal popolo in una determinata lista, acquisendo la fiducia del popolo, dei tarantini, in questa lista, non è possibile fare questi salti della quaglia pazzeschi, pensate, Patrizia Mignolo, massimo rispetto per te Patrizia, ma tu sei stata eletta nel PD, poi sei andata in CON, poi sei andata in Taranto 2030, poi sei diventata Taranto Futuro in Corso, poi da Taranto Futuro in Corso sei, sto perdendo veramente la memoria, da Taranto Futuro in Corso sei diventata Italia Viva, ora torni ad essere di nuovo Taranto Futuro in Corso. Ma che serietà politica è questa? Che rispetto c'è verso gli elettori? Noi abbiamo bisogno di essere amministrati, non abbiamo bisogno di persone che cambiano partito, cambiano movimento, cambiano gruppo politico solo ed esclusivamente in base ai propri interessi politici. Ecco perché la gente si è schifata, ecco perché poi vedete che il numero degli astenuti aumenta sempre più. Io e Massimo Battista, consiglieri di opposizione, abbiamo voluto cristallizzare certe scelte schizofreniche e capire bene chi sta con Melucci e chi sta contro Melucci. Per questo insieme, devo dire agli altri consiglieri di opposizione che uno alla volta stanno firmando la nostra mozione di sfiducia al sindaco, abbiamo fatto una scelta di coerenza, di chiarezza verso l'elettorato, contro i trasformismi, contro le pagliacciate politiche, questa è la verità, pagliacciate politiche si stanno facendo e abbiamo voluto dire noi stiamo all'opposizione, noi vogliamo sfiduciare Melucci, ma lo facciamo apertamente, non come quelli che entrano ed escono dalla maggioranza, entrano ed escono dalla maggioranza. Ora voglio vedere cosa farà il Partito Socialista, cosa farà il Movimento 5 Stelle, cosa faranno i Verdi che pure avevano giurato di passare all'opposizione criticando e censurando Melucci, che aveva sposato Italia Viva, ma cosa fa? Basta che Melucci ritorni al passato e viene perdonato e abbiamo cancellato tutto? Ma la politica è una cosa seria, seria perché cari miei, cari consiglieri, siete stati eletti dai cittadini, eletti e state tradendo la fiducia che i cittadini hanno riposto in voi, nei vostri confronti un solo sentimento, quello di vergogna politica.